Il colpo è stato ben studiato ed ha fruttato un bottino di 3.000 euro. In pieno giorno, con il volto coperto e armati di pistola, almeno due rapinatori hanno bloccato e derubato un corriere dell'UPS. È accaduto in via Giorgio Amendola a Canicattì. Del caso di microcriminalità si stanno occupando i polizzotti del commissariato cittadino e quelli della squadra mobile della questura di Egrigento. Il corriere, a quanto pare, stava ultimando il suo giro di consegne pacchi a domicilio e ritiro di quelli da spedire quando all'improvviso è stato avvicinato da due delinquenti che lo hanno praticamente bloccato. Sotto la minaccia della pistola, l'uomo è stato costretto a consegnare quanto aveva con sé, poco meno di 3.000 euro. Arraffati i soldi, i rapinatori sono immediatamente tornati sui loro passi e sono scappati a bordo di un mezzo. Pare un'autovettura. È accaduto tutto alla luce del sole, in una zona comunque trafficata. Rapinatori audaci che, a quanto pare, sapevano e alla perfezione come muoversi. Gli agenti del commisariato cittadino, coordinati dal vicequestore Cesare Castelli, hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori del fatto criminoso e lo stanno facendo utilizzando le immagini prelevate da alcuni impianti di videosorveglianza installati in esercizi commerciali della zona. Gli agenti sarebbero sulle tracce dei rapinatori.